impariamo a suonare tu scendi dalle stelle un brano tradizionale natalizio di alfonso maria degli uori impareremo prima di tutto a suonare la melodia quindi le note scritte nel pentagramma e successivamente un piccolo accompagnamento con la mano sinistra quindi attenzione queste note scritte in rosso non fanno parte della melodia bene iniziamo posizioniamo la mano destra mettendo il pollice sul re quindi posizione di re pollice sul re indice sul mi medio sul fa anulare sul sol e infine il mignolo sul la il brano inizia con il quarto dito sulla nota sol e come potremmo vedere procede soprattutto per gradi congiunti ecco che a questo punto subentra un primo salto un intervallo di quinta dal re con il primo dito al la con il mignolo quindi in questo modo per poi riprendere per gradi congiunti ancora con il secondo dito un altro salto e in questo punto c'è un passaggio di qui parte la seconda parte quindi riposiziono la mano nella posizione di re e questa volta si parte con l'indice sul mi ecco finisce la seconda parte ed infine abbiamo una ripresa della prima parte ecco finisce la seconda parte bene ora passiamo all'accompagnamento quindi con la mano sinistra suoneremo in posizione di do soltanto due note il do con il mignolo e il sol con il pollice suoneremo queste due note soltanto nei punti indicati bene e adesso proviamo a suonare mani unite ecco finisce la seconda parte ecco finisce la seconda parte ecco finisce la seconda parte Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.